Si avvicina la Pasqua, si avvicina anche il momento in cui il Governo dovrà dettare le nuove linee guida. Cosa vi aspettate? Che Pasqua sarà? Gli altri non so cosa si aspettino. Io dico francamente me ne infischio della politica. Ho votato 60 anni, ho votato per tutti, è cambiato niente se non in peggio. Ormai mi vergogno di andare a votare. Il DPCM chi se ne frega. Se ci vuole ed è indispensabile benvenga la chiusura, altrimenti come facciamo adesso? Andremo avanti per cinque anni. Da quello che ho capito mi sembra che sarà così come l'anno scorso, però noi sempre speriamo che lo sa. Come sarà la prossima Pasqua signora? Come al solito, come Natale penso. Sarà una Pasqua difficile perché siamo tutti stanchi. Una Pasqua orribile. Io sono sicura e sono positiva. Sono sicura che ne usciremo e la prossima Pasqua dovrebbe essere quantomeno più serena. Questo è un augurio per tutti e per tutto quello che verrà. Si avvicina la Pasqua, si avvicina anche il momento in cui il governo dovrà dettare le prossime linee guida. Insomma, cosa vi aspettate? Come sarà la prossima Pasqua? Penso che rimarremo tutti così a casa. Penso che sarà un po' come l'anno scorso. Non credo che cambierà molto la situazione. Sì, anch'io penso la stessa cosa. Non credo che riapriranno, quindi staremo a casa come l'anno scorso, più o meno. Chissà che la mascherina ce la facciano anche abbassare. Speriamo bene. Insomma, io sono positiva. Non positiva in senso che sono positiva. In senso buono. Speriamo bene, dai. Speriamo bene.